E' ordinato dalla procura tenendo conto delle esigenze dei cittadini che hanno occupato questi alloggi e tenendo conto anche delle dichiarazioni di minori ma comunque rispettando quello che è poi l'ordine, l'ordinanza della procura della Repubblica, ma sia chiaro per quanto ci riguarda vogliamo collaborare e che le operazioni di sgombero vengono effettuate nel modo meno invasivo possibile. Quali le possibili soluzioni future? Per noi c'è una delle soluzioni, quella che può abbracciare le esigenze di noi che è quella dell'housing sociale. Ma nell'immediato quando escono dove vanno oggi? C'è la questura predisposta a tutte le soluzioni per rialloggiarli in posti sicuri ed accoglierli.